Buongiorno e benvenuti a tutti presenti qui in questa seconda parte del nostro Dies Academicus sulla pace. Una parola di benvenuto in modo particolare alle sue eccellenze, i signori ambasciatori presenti fra noi e senza dubbio anche la sua eminenza Pietro Cardinale Parolin. Adesso subito la parola al Padre Rettore, François-Xavier de Mortier. Grazie, grazie mille. Eminenza reverendissima Cardinale Pietro Parolin, eccellenze, signori ambasciatrici, carissimi tutti voi che siete qui in questa aula magna e anche nelle due altre aule, tutti voi membri della comunità universitaria della Gregoriana, carissimi amici. Con grande gioia vi accolgo all'inizio del secondo momento di questo Dies Academicus che ha come tema la pace, dono di Dio, responsabilità umana, impegno cristiano. Desidero subito e anzitutto rivolgere un saluto del tutto particolare e molto caloroso a sua eminenza reverendissima Cardinale Parolin che ci fa l'onore non solo della sua presenza tra noi ma di offrirci la sua riflessione nella conferenza che ci indirizzerà tra alcuni minuti. Eminenza accoglierla in questa università che è stata la sua università e per tutti noi una profonda gioia che mi è difficile esprimere con le sue parole. Permettetemi di dire che sono stato molto commosso dalla disponibilità con la quale lei ha subito accolto l'invito a venire da noi oggi a parlare della pace, il dono meraviglioso della pace, un bene che si apprezza soprattutto quando viene a mancare, come lei ha detto alcuni mesi fa. Il Dies Academicus, Eminenza, è un momento chiave nel percorso dell'anno accademico dell'università. Per l'organizzazione di questa giornata un comitato organizzativo ha curato la coordinazione con le diverse unità accademiche e l'organizzazione dei forum di questa mattina. Vorrei ringraziare sentitamente i membri di questo comitato, il padre Brian Lobo che ne ha assunto il coordinamento, il padre Adrian Lantiampa, la dottoressa Maria Chiara D'Angelis e la dottoressa Francesca Anastasi. Desidero anche esprimere tutta la mia e la nostra gratitudine ai relatori dei diversi forum di questa mattina. Questo anno il nostro Dies è dedicato a un tema che dopo un attento discernimento ci sembra essere una priorità forte e in qualche modo una esigenza bruciante per il mondo e per la Chiesa. Papa Francesco nell'Angelus del primo gennaio scorso ci ha detto, cito, sempre è possibile la pace, dobbiamo cercarla. Per cercarla e per viverla come università abbiamo una responsabilità specifica. Dall'inizio di questa mattina si sono già svolte diverse sezioni di studio proposte dalle diverse unità accademiche per esaminare e approfondire questo tema da una pluralità di prospettive. Non si tratta di avere una visione frammentata frammentaria del tema per dire alla fine tutto è davvero complesso, che cosa direi che possiamo fare. No, tutti noi anheliamo alla pace e desideriamo un mondo dove la pace e l'amicizia possano essere una realtà. Di fronte alle guerre e conflitti attuali e agli anniversari della prima e della seconda guerra mondiali, che ci ricordano fino a dove può arrivare il potere distruttivo dell'uomo. Di fronte al terrorismo e secondo le sue parole eminenza al Consiglio di sicurezza dell'ONU all'impatto disumanizzante del terrorismo, di fronte all'inaccettabile violenza della povertà e soprattutto della miseria, non soltanto in una parte del mondo, ma anche nelle nostre società, di fronte a tante piaghe e fardelli, non possiamo essere spettatori di qualcosa che non riguarderebbe la nostra comunità universitaria. Tutti noi siamo in diversi modi colpiti e feriti da ciò che non è la pace. La nostra comunità universitaria nella sua diversità sa che cosa significa per tanta gente la fame di pace e anche il coraggio di affrontare ciò che nega la pace. Come lei sa, eminenza, abbiamo circa 2.600 studenti che provengono da 120 paesi. Più che mai siamo una università nazionum, secondo la denominazione del Collegio Romano fin dall'inizio. Una università deve affrontare le sfide del nostro mondo con i suoi mezzi propri, una riflessione intellettuale che sia rigorosa e vigorosa. Troppo spesso pensiamo che la pace sia la responsabilità degli altri, di chi ci governa, di loro, come si dice spesso in un modo indeterminato. Ma la pace è un dono che abbiamo ricevuto da Dio e ci ricordiamo ciò che Francesco d'Assisi raccomandava ai suoi frati, la pace che annunziate con la bocca, abbiate l'anzitutto nei vostri cuori. Un dono che dobbiamo custodire non come un tesoro chiuso sotto chiave, ma come un seme da seminare, da seminare ovunque, soprattutto nei terreni più secchi ed aspri. Questa è forse la sfida più grande dei nostri giorni e anche la nostra prima responsabilità. Una tale responsabilità richiede da parte nostra una audacia nel pensiero e nell'azione. Papa Francesco, l'8 giugno dello scorso anno, in occasione dell'incontro con il Presidente Shimon Peres e Mahmoud Abbas, ci ha detto, cito, «Per fare la pace ci vuole coraggio, molto di più che per fare la guerra. Ci vuole coraggio per dire sì all'incontro e no allo scontro. sì al dialogo e no alla violenza, sì al negoziato e no alle ostilità, sì al rispetto dei patti e no alle provocazioni, sì alla sincerità e no alla doppiezza». Per tutto questo ci vuole coraggio, grande forza d'animo. Dunque, come Università, in quanto cristiani che vogliono ascoltare e vivere la parola del Signore, beati gli operatori di pace perché saranno chiamati i figli di Dio, desideriamo assumere fino in fondo la nostra responsabilità specifica. Non credo, Eminenza, che ci sia testimone più autorevole di lei, in quanto persona e nella sua missione come segretario di Stato, per testimoniare la comprensione intima delle relazioni internazionali, il coraggio discreto e determinato che richiede l'impegno per la pace, la pazienza di percorrere le vie del dialogo. Lei ha maturato un'esperienza importante durante i primi dieci anni del suo servizio nella sezione per i rapporti con gli Stati della Secretaria di Stato e poi durante i sette anni del suo incarico come sottosecretario di questa sezione, senza dimenticare il suo lavoro come nuncio in Venezuela dal 2009 al 2013. La Santa Sede è un soggetto internazionale con la sua rete propria di nunziature e rappresenta anche una comunità di fede mondiale. E tutti noi sappiamo bene come e quando la Santa Sede si è dedicata ad avvicinare coloro che si tenevano a distanza, a permettere incontri e dialoghi, a ricordare che la tranquillità ordinis si basa sulla giustizia, la libertà, la fiducia reciproca, il rispetto dei diritti fondamentali. Eminenza, la ringrazio dal profondo del cuore per la sua presenza e fin da là per le parole che lei vola affidarci come messaggio che potrà nutrire la nostra missione là dove il Signore ci chiamà e ci chiamerà. Grazie mille, grazie infinite. Adesso diamo la parola a sua emerenza cardinale Parolin. E vorrei prima di tutto salutarvi, salutarvi molto cordialmente, a cominciare dal Rettore dell'Università Gregoriana che ringrazio anche per l'invito che mi ha rivolto a partecipare a questo Dies Academicus visto anche il tema particolare che quest'anno viene affrontato e ringraziarlo anche per le parole di benvenuto che mi ha appena rivolto. Insieme con lui, ecco, salutare anche tutti i componenti della comunità universitaria della Gregoriana in maniera particolare gli studenti visto che anch'io sono stato qui studente come ricordava il Rettore a metà degli anni Ottanta nella Facoltà di Diritto Canonico e certo mai avrei immaginato di tornare un giorno in questa veste e di rivolgermi a questa così autorevole assemblea e sono contento di essere qui e poi saluto anche tutti gli ospiti che ci sono ecco, non so se ci sono rappresentanti anche di altre università pontifice saluto i signori ambasciatori i rappresentanti del corpo diplomatico e tutte le altre personalità che qui si trovano ecco, io vorrei parlarvi un po' all'interno del tema che avete scelto appunto per questo Dies Academicus la pace, dono di Dio, responsabilità umana, impegno cristiano io vorrei parlarvi un po' sull'attività diplomatica della Santa Sede a servizio della pace che evidentemente è un tema che mi è congeniale proprio perché gran parte della mia vita l'ho dedicata al servizio della Santa Sede e della sua attività diplomatica e mi pare che rende particolarmente significativo l'incontro di oggi il modo con cui è stato preparato già ne accennava il padre di Mortier coinvolgendo le diverse facoltà e istituti dell'università tutti chiamati a riflettere sulla pace e a proporre sentieri di pace secondo il rispettivo approccio filosofico, teologico, giuridico psicologico, sociale, storico e della comunicazione la pace dunque è vista come strumento di quella reductio ad unum che si realizza quando la conoscenza che è propria delle diverse discipline si fonde nell'unità del sapere un metodo quanto mai necessario a fronte di quella frammentazione che interessa anche il sapere spesso riducendolo a tante conoscenze tra loro separate e quasi impenetrabili ognuna propone la sua risposta ai grandi interrogativi dell'uomo dimenticando che si tratta solo di soluzioni che per quanto competenti e corrette rimangono parziali e anche la questione della pace non sfugge a questa dinamica utilizzando le tecniche della comunicazione se volessimo esprimere con una nuvola di parole cosa rientra nel concetto di pace troveremo termini quali armamento e spese militari disordine conflitti interni guerra tensioni ideologiche e religiose odio raziale ma anche povertà cambiamenti climatici fame risorse naturali un lungo elenco che rende impossibile stabilire quali siano le parole più importanti quelle da scrivere con un carattere più grande per intenderci anche la pace dunque rischia di essere vista nelle sue diverse sfaccettature tutte valide anche se spesso lontane dall'obiettivo unitario di costruirla per questo anche le riflessioni che intendo condividere con voi tutte tutti sono animate dal desiderio di coinvolgere le differenti realtà che compongono l'universitas perché ognuno senta la sua chiamata ad essere protagonista nell'impegno a edificare un futuro di pace lo scorso 12 gennaio incontrando il corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede Papa Francesco richiamava il duplice significato della pace indicando e cito quest'oggi desidero far risuonare con forza una parola a noi molto cara la pace essa ci giunge dalla voce delle schiere angeliche che l'annunziano nella notte di Natale quale è prezioso dono di Dio e nello stesso tempo ce la indicano come responsabilità personale e sociale che ci deve trovare solleciti e operosi la pace dunque come dono di Dio è come frutto dell'azione umana e se il dono appartiene all'ordine della gratuità che unisce il creatore alle sue creature l'azione umana riconduce alla responsabilità come credenti non possiamo certo dubitare che il Padre nostro ci farà mancare ciò di cui abbiamo bisogno ma come donne e uomini che vivono ogni giorno il loro pellegrinaggio terreno abbiamo certamente la responsabilità di costruire la pace vuol dire che aspirare alla pace non basta come non è sufficiente l'intenzione di operare per la pace occorrono comportamenti concreti e coerenti azioni mirate e soprattutto la piena coscienza che ognuno nel suo piccolo grande mondo quotidiano è costruttore di pace pur nei diversi compiti incarichi e funzioni chi vi parla non nasconde che le parole di Papa Francesco appena richiamate sono motivo di quotidiana riflessione di fronte all'esercizio della funzione di primo collaboratore del Vescovo di Roma anche nell'azione propriamente internazionale un mandato che porta il Segretario di Stato a diretto contatto con i responsabili politici e quindi con le circostanze che determinano la vita della comunità internazionale le relazioni tra gli Stati le attività degli organismi internazionali e in particolare le vicende dei diversi popoli che compongono la famiglia delle nazioni un mosaico di situazioni che gli avvenimenti di cui siamo protagonisti o a cui ogni giorno assistiamo colorano di contrasti di diffidenze che giungono anche a quella violenza fratricida che provoca disastri umanitari di vaste proporzioni qual è parte di questa complessità oggi amplificata dall'immediatezza della comunicazione spesso realizzata con crudo realismo l'azione diplomatica della Santa Sede non si accontenta di osservare gli avvenimenti o di valutarne la portata né può restare solo una voce critica essa è chiamata ad agire per facilitare la coesistenza e la convivenza fra le varie nazioni per promuovere quella fraternità tra i popoli dove il termine fraternità è sinonimo di collaborazione fattiva di vera cooperazione concorde e ordinata di una solidarietà strutturata a vantaggio del bene comune e di quello dei singoli e il bene comune come sappiamo con la pace ha più di un legame la Santa Sede in sostanza opera sullo scenario internazionale non per garantire una generica sicurezza resa più che mai difficile in questo periodo dalla perdurante instabilità ma per sostenere un'idea di pace frutto di giusti rapporti di rispetto delle norme internazionali di tutela dei diritti umani fondamentali ad iniziare da quelli degli ultimi e più vulnerabili quella pace che come ebbe a dire il beato Papa Paolo VI riprendendo la costituzione conciliare Gaudium et Spes non scaturisce solo da un'assenza di guerra frutto dell'equilibrio precario delle forze una prospettiva che superava una convinzione tradizionale dei rapporti internazionali strutturati sull'alternarsi tra la pace e la guerra i papi in particolare quelli più vicini a noi hanno manifestato e manifestano questa visione nel loro insegnamento e come non ricordare a questo proposito la pace dei munus di Benedetto XV a conclusione del primo conflitto mondiale o la pace in terris di San Giovanni XXIII scritta nel pieno di un mondo diviso ma la manifestazione ma la manifestano anche nei contesti internazionali più significativi nei momenti di maggiore tensione mostrando come la pace non è solo un punto fermo della dottrina della Chiesa ma nei suoi contenuti è una sorta di agenda per la condotta della Santa Sede nella società degli Stati e per la connessa attività diplomatica che essa esercita un'attività che a molti può sembrare retaggio di vicende storiche ormai lontane emanazione di un potere temporale che mal si addice ad una dimensione pastorale e spirituale della Chiesa eppure l'immagine di popolo di Dio a cui l'Ecclesiologia del Vaticano II affida il compito di instaurare il Regno di Cristo ci dice che la Chiesa e cito nulla sottrae al bene temporale di qualsiasi popolo ma il contrario favorisce e accoglie tutte le ricchezze le risorse e le forme di vita dei popoli in ciò che esse hanno di buono e accogliendole le purifica le consolida ed eleva la diplomazia della Santa Sede ha una chiara funzione ecclesiale se è certamente lo strumento di comunione che unisce il romano pontefice ai vescovi a capo delle chiese locali o che consente di garantire la vita delle chiese locali rispetto alle autorità civile oserei dire che anche il vincolo del successore di Pietro per raggiungere le periferie sia quelle della realtà ecclesiale che quelle della famiglia umana senza l'opera delle rappresentanze diplomatiche pontifice quanti credenti e non solo battezzati vedrebbero limitata la loro fede quanti istituzioni della chiesa rimarrebbero senza quel vitale contatto con il suo governo centrale che ne disegna l'agire da loro sostegno e fin anche credibilità sul versante della società civile la mancata presenza della santa sede nei diversi contesti intergovernativi di quali orientamenti etici priverebbe gli indirizzi di cooperazione il disarmo la lotta alla povertà l'eliminazione della fame la cura delle malattie e l'alfabetizzazione quanti dedicano il loro ministero sacerdotale ed episcopale al servizio diplomatico della santa sede conoscono bene questa loro responsabilità che li rende partecipi dell'esercizio di un aspetto del munus petrino ben sintetizzato dal canone 362 del codice di diritto canonico il romano pontefice ha il diritto nativo indipendente di nominare e inviare suoi legati sia presso le chiese particolari nelle diverse nazioni e regioni sia presso gli stati e le autorità pubbliche come pure di trasferirli e richiamarli nel rispetto però delle norme del diritto internazionale per quanto riguarda l'invio e la revoca dei legati accreditati presso i governi una visione una visione chiara e capace di far convergere sulla diplomazia pontificia le ragioni ecclesiali nelle quali il teologo ritrova in pienezza quella dimensione della collegialità esposta dalla Lumen Gentium e il suo pieno inserimento nelle regole che governano i rapporti internazionali consentendo al giurista di cogliere quanto sia profonda la relazione tra il diritto della Chiesa e l'ordinamento internazionale due ordinamenti certamente autonomi ed originari e per questo necessariamente aperti al confronto e al collegamento in molti casi determinanti per la vita della Chiesa ne sono esempi l'uso dello strumento diplomatico per sua natura volto a favorire le relazioni amichevoli tra gli Stati quale che sia la diversità dei loro ordinamenti costituzionali e sociali o la conclusione di trattati nella forma bilaterale e multilaterale e cioè di uno strumento con una duplice funzione quale fonte di diritto internazionale e quale mezzo per sviluppare la collaborazione pacifica tra le nazioni in una società come la nostra l'immagine e i dati hanno un ruolo essenziale lo sanno bene i docenti sollecitati a una didattica sempre nuova e spesso a ricercare mediante supporti mediatici i modi più efficaci per comunicare il sapere ebbene stando ai dati nell'odierno assetto della comunità internazionale la santa sede a relazioni diplomatiche di tipo bilaterale con 179 stati a cui si aggiungono l'unione europea e lo stato di palestina e poi rapporti stabili di tipo multilaterale con una miriade di istituzioni intergovernative competenti nei diversi settori in cui si articola la struttura della governance internazionale seguendo le norme del diritto internazionale questo significa lo stabilimento di rappresentanze diplomatiche le nunziature apostoliche presso gli stati e le missioni permanenti presso le organizzazioni internazionali in genere essi hanno a capo un nunzio apostolico una figura in tanti paesi indicata come l'ambasciatore del papa che è prevista dal diritto internazionale codificato nella convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche andando però oltre l'immagine va sottolineato che questi numeri non esprimono posizione di riguardo o di chissà quale esercizio di potere ma piuttosto l'evidenza di un'ampia dimensione di lavoro quotidiano complesso e sovente difficile un lavoro il cui obiettivo rimane ad intra la suprema legge della salus animaru mentre ad extra è l'ordinata convivenza tra i popoli che per la visione cristiana è il vero presupposto alla pace se giungere al traguardo della vera pace sulla terra significa per la Chiesa dare compimento alla storia della salvezza per la diplomazia pontificia vuol dire operare facendosi strumento di pace attenendosi conseguentemente alla perseveranza al rispetto delle regole a quella lealtà che il diritto internazionale esprime nel ben noto principio di buona fede pacta sun servanda in proposito ci illumina ancora una volta il codice di diritto canonico quando pone tra i compiti del rappresentante pontificio quello di adoperarsi per promuovere tutto ciò che riguarda la pace il progresso e la cooperazione tra i popoli canone 364 numero 5 la pace dunque racchiude un generale desiderio dell'umanità che la chiesa raccoglie e fa suo ma una precisazione va immediatamente aggiunta l'idea di pace di cui la santa sede portatrice non si ferma a quella che le nazioni esprimono nel contemporaneo diritto internazionale essa infatti convinta che nessuna azione avente a cuore la pace compresa quella esercitata dalla diplomazia può essere ragionevole e valida se anche tacitamente mantiene ancora dei riferimenti alla guerra operare per la pace non significa solo determinare un sistema di sicurezza internazionale e magari rispettarne gli obblighi questo non è che un primo passo spesso obbligato e a volte imposto è richiesto altresì di prevenire le cause che possono scatenare un conflitto bellico come pure di rimuovere quelle situazioni che possono riaprire guerre sanguinose appena concluse favorendo la riconciliazione tra le parti che siano stati attori non statali gruppi di insorti o altre categorie di combattenti la questione è evidente investe non solo responsabilità individuali o collettive ma anche il sistema delle regole della governance mondiale il diritto internazionale nella sua funzione di unica autorità superiore agli stati mostra la graduale maturazione di principi e norme per governare le situazioni che giustificano il ricorso all'uso della forza armata il cosiddetto ius ad bellum e di quelli volti per regolare i conflitti stessi il tradizionale ius in bello in tempi più recenti questo processo è giunto ad elaborare norme per umanizzare la guerra definendo così i contenuti del diritto internazionale umanitario una regolazione quest'ultima a cui la santa sede non ha mai fatto mancare l'apporto della sua diplomazia nella fase programmatica e redazionale coniugando coerentemente le esigenze della sua sovranità e della sua condizione di soggetto di diritto internazionale con la missione che essa svolge nel mondo quale governo centrale della chiesa un apporto che anche nell'immediato è pronto a tradursi in realtà nell'ormai prossimo confronto diplomatico tra gli stati in vista di un rafforzamento del diritto internazionale umanitario non di rado reso insufficiente e inoperante dalle nuove forme di conflitto armato pur condividendo e rispettando questi sforzi però per la santa sede è oggi più che mai urgente modificare il paradigma su cui si poggia l'ordinamento internazionale i fatti e le atrocità di questi giorni domandano ai diversi attori stati e istituzioni intergovernative in primis di operare per prevenire la guerra in ogni sua forma dando consistenza ad uno ius contra bellum e cioè a norme in grado di sviluppare attualizzare e soprattutto imporre gli strumenti già previsti dall'ordinamento internazionale per risolvere pacificamente le controversie e scongiurare il ricorso alle armi mi riferisco al dialogo al negoziato alla trattativa alla mediazione alla conciliazione spesso spesso visti come semplici palliativi privi della necessaria efficacia una diversa considerazione di questi strumenti non può essere imposta ma potrà scaturire solo da un generale convincimento la pace è un bene prezioso e insostituibile lo sforzo a cui tutti siamo chiamati a partire proprio dai centri di formazione come l'università e di favorire una matura coscienza che si rifletta nell'azione dei governi e quindi delle istanze intergovernative e questo nel pieno rispetto di quella legalità internazionale ancorata a fondamentali principi di giustizia generalmente condivisi e oserei dire razionalmente condivisi analogamente il diritto internazionale deve continuare a dotarsi di istituti giuridici e strumenti normativi in grado di gestire i conflitti conclusi o le situazioni in cui gli sforzi della diplomazia hanno imposto alle armi di tacere la santa sede in proposito vuole essere da stimolo per gli altri membri della comunità internazionale perché trovi consistenza l'esigenza di uno ius post bellum rinnovato rispetto a quello tradizionale che resta limitato solo a stabilire i rapporti tra vincitori e vinti lo scorso 4 febbraio papa francesco è stato chiaro quando io sento le parole vittoria o sconfitta ha detto sento un grande dolore una grande tristezza nel cuore non sono parole giuste l'unica parola giusta è pace questa è l'unica parola giusta quando è in gioco la pace le questioni da affrontare nel post conflitto sono molto chiare come ad esempio il rientro dei profughi e sfollati il funzionamento delle istituzioni locali e centrali la ripresa delle attività economiche la salvaguardia del patrimonio artistico e culturale da cui non è strana la componente religiosa ben più complesse però sono le esigenze di riconciliazione tra le parti basti pensare al rispetto dei diritti umani e tra questi al diritto al ritorno al ricongiungimento di famiglie e di comunità che si confronta con la restituzione dei beni o con il loro risarcimento il compito dello ius pos bellum dunque non si limita a riassettare territori a riconoscere nuove o mutate sovranità o ancora a garantire con la forza armata i nuovi equilibri esso deve piuttosto precisare la dimensione umana della pace eliminando ogni possibile motivo per compromettere la condizione di coloro che hanno vissuto gli orrori di una guerra e attendono un diverso avvenire questo comporta pensare a efficaci meccanismi della giustizia di transizione perché siano realmente conformi a giustizia e non alla volontà di parte tradotto nel linguaggio della diplomazia questo significa dare priorità alla forza del diritto rispetto all'imposizione delle armi garantire la giustizia prima ancora della legalità lo scorso settembre recandomi al palazzo di vetro per partecipare ai lavori dell'onu mi ha colpito la frase posta all'ingresso della grande sala dell'assemblea generale del golden rule la regola d'oro quel principio cardine che ogni cultura e ogni visione religiosa autentica pone a suo fondamento operare per la pace ci impone il rispetto dell'altro chiunque esso sia e quindi di agire con lui e per lui considerandolo un altro me stesso mi sia permesso di ricordare come anche in questo momento le esperienze della diplomazia pontifice in proposito sono tante e diverse basti pensare alla sorte delle antiche comunità cristiane in Medio Oriente la cui difesa vede il ruolo attivo delle rappresentanze pontifice nell'area e questo nella convinzione che la protezione va esercitata nei confronti delle persone nella loro condizione di vittime inermi prima ancora della loro appartenenza a comunità religiose ma in genere questi tipi di azione rimangono lontani dai riflettori e dalla cronaca seguendo piuttosto quello spirito evangelico ricordatoci da Papa Francesco all'inizio della Quaresima quando si compie qualcosa di buono quasi istintivamente nasce in noi il desiderio di essere stimati e ammirati per questa buona azione per ricavarne una soddisfazione Gesù ci invita a compiere queste opere senza alcuna ostentazione e a confidare unicamente nella ricompensa del Padre che vede nel segreto e direi è questo che fanno quotidianamente i nunzi apostolici un monito che poi coincide con il fondamento classico dell'attività diplomatica persuadere con discrezione e agire con prudenza San Giovanni XXIII negli anni del suo fecondo servizio diplomatico annotava in proposito nel Giordale dell'Anima a dare semplicità in tutto ricorderò le virtù teologali e cardinali la prima delle cardinali è la prudenza e qui che si battono e spesso restano battuti papi vescovi re e comandanti questa è la virtù caratteristica del diplomatico questa attività e queste esperienze della diplomazia della Santa Sede sono lo stimolo per trovare un ulteriore slancio e così concorrere a dare concretezza alle speranze e ai desideri di pace che sorgono dai diversi angoli del pianeta e questo con un'evidente continuità negli anni 80 del secolo scorso all'interno del Consiglio per gli affari pubblici della Chiesa oggi sezione per i rapporti con gli stati della Segreteria di Stato trovò collocazione un apposito ufficio per la mediazione pontificia si trattava di sviluppare i contenuti giuridico-politici per porre fine alla disputa territoriale tra l'Argentina e il Cile sul canale di Beagle all'estremo sud del continente americano obiettivo realmente raggiunto il 29 novembre 1984 con la conclusione del Trattato di Pace e di Amicizia mediante il quale le parti davano effetti obbliganti alla soluzione del contenzioso proposta dalla Santa Sede un tale tipo di azione pacificatrice era già esercitata lungo la storia come ricorda l'arbitrato condotto da Papa Leone XIII nel 1885 per porre fine al conflitto che opponeva la Spagna e la Germania per la sovranità sulle isole Caroline e giunge fino al recentissimo avvio di una nuova relazione tra Cuba e Stati Uniti dopo decenni di sola contrapposizione a chi volesse leggere questi fatti slegati dalla dimensione ecclesiale basta ricordare che nei casi richiamati sono stati gli episcopati locali e comunque la presenza e la ruolo della Chiesa in quei paesi a ritenere essenziale un intervento diplomatico della Santa Sede alla diplomazia pontificia dunque è affidato il compito di lavorare per la pace seguendo i modi e le regole che sono propri dei soggetti di diritto internazionale elaborando cioè risposte concrete in termini giuridici per prevenire risolvere o regolare conflitti ed evitare la loro possibile degenerazione dell'irrazionalità della forza delle armi ma guardando il profilo sostanziale si tratta soprattutto di un'azione che mostra come il fine perseguito sia primariamente religioso e cioè rientri in quell'essere veri operatori di pace e non operatori di guerre o almeno operatori di malintesi come ci richiama Papa Francesco un appello di fronte al quale il contesto accademico in cui siamo consente e direi quasi impone di affiancare a queste riflessioni la proposta che nell'opera di riforma avviata dal Santo Padre ritrovi spazio nella Segreteria di Stato un ufficio per la mediazione pontificia che possa fare da raccordo tra quanto sul terreno già svolge la diplomazia della Santa Sede nei diversi Paesi e pari venti collegarsi alle attività che in tale ambito portano avanti le istituzioni internazionali di fronte all'aumento dei conflitti armati interni e internazionali che sorgono per la carenza di azioni preventive per la mancata gestione del post-conflitto questa attenzione alla prevenzione potrà contribuire ad evidenziare il vero significato della collocazione della Santa Sede nella comunità internazionale che parte da una certezza mai come oggi in un'epoca di tanto progresso umano si è reso necessario l'appello alla coscienza morale dell'uomo sono parole di Paolo VI nel discorso alle Nazioni Unite dell'ottobre del 65 un appello che si fa ancora più accorato quando nel tema della pace si affronta il capitolo del disarmo ad iniziare da quello nucleare che ha visto nel 1968 la conclusione del trattato sulla non proliferazione delle armi nucleari nel diventarne parte nel 1971 la Santa Sede intese dare il proprio appoggio ed incoraggiamento morale alle disposizioni del trattato medesimo in quanto esso costituisce un passo importante verso l'auspicata creazione di un sistema di disarmo generale e completo sotto efficace controllo internazionale e sarebbe bello riprendere per esempio a questo riguardo tutta l'opera di Benedetto XV dopo la grande guerra dopo l'inutile strage non ne ricordiamo abbiamo ricordato non stiamo ricordando il centenario in questi anni lui affermava già l'esigenza in vista della pace di un disarmo generale completo sotto efficace controllo internazionale in vista di garantire la sicurezza ed accrescere la fiducia nelle relazioni tra gli stati e di promuovere su una base giusta e stabile la pace e la cooperazione tra i popoli un sostegno che continua anche in vista dell'ormai prossima nona conferenza di revisione di quel trattato che vede la santa sede impegnata su alcuni aspetti essenziali eliminare la proliferazione di armi nucleari creare zone denuclearizzate e accrescere la convinzione che la guerra non è un mezzo per risolvere i conflitti tra gli stati e i popoli la vera pace si può costruire soltanto nella vicendevole fiducia ci ricorda la pace Minterris proprio in relazione al disarmo una fiducia che la santa sede concorre a creare come mostrano ad esempio la ratifica nel 1977 della convenzione sull'interdizione dell'uso stoccaggio produzione e trasferimento delle mine terrestri anti uomo e nel 2008 della convenzione sulle bombe a grappolo in questo modo oltre al pieno appoggio ai principi fondamentali della carta delle Nazioni Unite agli sforzi in vista di un disarmo generale attraverso un effettivo controllo internazionale come stabiliscono altri specifici accordi multilaterali di cui la santa sede parte può trovare concretezza l'auspicio che le ingenti spese per gli armamenti siano impiegati in altri settori che sempre più minacciano la pace ed è questo un punto sul quale Papa Francesco è tornato molte volte un punto che gli sta particolarmente a cuore che le ingenti spese per gli armamenti siano impiegati in altri settori il tema del disarmo ci riporta all'annoso dibattito sul limite che la forza armata deve avere nelle relazioni internazionali ricordo soltanto come le due modalità che la comunità internazionale ha individuato dopo il crollo dei muri e cioè l'intervento umanitario e la responsabilità di proteggere abbiano trovato considerazione rispettivamente negli interventi di Giovanni Paolo II alla FAO nel 1992 e di Benedetto XVI alle Nazioni Unite nel 2008 i pericoli per la pace e le minacce alla sicurezza però impongono la ricerca di ulteriori strumenti e modi di agire almeno per fronteggiare un mutato scenario è sufficiente ricordare che al terrorismo delocalizzato affermatosi con l'11 settembre 2001 si è oggi sostituito un terrorismo extraterritoriale che promana cioè da entità localizzate territorialmente e che giunge perfino ad utilizzare gli strumenti propri dell'attività statale nel disarmare l'aggressore per proteggere persone e comunità non si tratta di escludere l'estrema razio della legittima difesa ma di considerarla tale estrema razio appunto e soprattutto attuarla solo se è chiaro il risultato che si vuole raggiungere e si hanno effettive probabilità di riuscita non sto qui richiamando solo una costante dell'insegnamento della chiesa ma anche quelle norme del diritto internazionale che hanno fatto superare la convinzione secondo cui l'uso della forza armata si può solo umanizzare ma non si può eliminare diventa allora necessario non limitarsi a conoscere le cause di ogni aggressione ma affrontarle e risolverle secondo il principio di buona fede la storia della diplomazia narra numerosi episodi in cui per due o più contendenti il territorio di un terzo stato diventa il luogo in cui confrontare i rispettivi interessi dimenticando i diritti delle popolazioni residenti vittime innocente e costrette a spostamenti forzati parimenti il diplomatico intuisce le conseguenze che in un conflitto o in una regione instabile comporta la fornitura di armamenti come pure la garanzia di disporre e utilizzare risorse economiche il tutto magari ammantato di motivazioni di ordine strategico economico etnico culturale o fin anche religioso se manca la volontà di fermare queste situazioni il rischio di allungare la spirale dei conflitti e la destabilizzazione di intere aree è certa ma la pace non nasce dalla paura delle bombe o dal predominio di uno sull'altro più in generale poi la ricerca di nuove strade vuol dire affidare la soluzione di dispute a mezzi pacifici compresi quelli ad esempio quelli che ad esempio comportano l'intervento obbligatorio del giudice internazionale un tema caro alla diplomazia pontificia e già manifestato da leone tredicesimo in una lettera alla regina guglielmina d'olanda dell'11 febbraio 1899 mentre con la conferenza della pace all'aia si porta a compimento l'idea della corte permanente di arbitrato i contenuti di quella lettera vennero ripresi da giovanni paolo secondo in un indimenticabile discorso alla corte internazionale di giustizia nel 1988 invocando già un criterio legale di responsabilità individuale e penale verso la comunità internazionale che doveva trovare compimento dieci anni dopo con l'istituzione della corte penale internazionale la domanda è se all'interno degli stati una funzione giudiziaria accentrata ha superato la vendetta e la rappresaglia non potrà avvenire la stessa cosa nella società degli stati forse è necessario che il nostro ruolo di costruttori di pace diventi fattivo nel proporre idee che possono poi concorrere a definire nuovi scenari e procedure per la pace come indicavo all'inizio di questa riflessione nella word cloud del termine pace ci sono anche altre situazioni e questioni e queste interessano l'azione diplomatica della Santa Sede quando si fa presente nel contesto delle istituzioni internazionali sono i luoghi in cui si lavora non solo per raggiungere la pace ma anche per far maturare una cultura della pace attraverso i diversi settori delle relazioni internazionali si tratta di un processo interessante che la Santa Sede segue fin dagli albori e che alla luce dell'esperienza permette di constatare che norme e programmi degli organismi internazionali non sono poi così distanti dalla quotidianità di persone comunità e popoli ma ne orientano comportamenti e suggeriscono stili di vita potremmo dire che la dimensione multilaterale dei rapporti internazionali con i suoi metodi e regolazioni sempre più complessi è parte anch'essa della dimensione globale che caratterizza la nostra epoca per la diplomazia della Santa Sede la sfida è duplice da un lato essa si sente obbligata ad uno sforzo di formazione e preparazione riconoscendo che non si può operare nelle istituzioni intergovernative senza la necessaria competenza la capacità tecnica e una vera professionalità dall'altro quale strumento ecclesiale essa deve valutare se e come quanto emerge in quei contesti risponde al bene della famiglia umana e non è limitato ad interessi particolari che possono facilmente sconvolgere gli stessi orientamenti e programmi in funzioni della pace una tale roadmap si lega necessariamente alla richiamata prevenzione non solo dei conflitti e della guerra ma sempre più della tutela della dignità umana e dei diristi ad essa connessi diventano allora prioritari fattori come la povertà il sottosviluppo le catastrofi naturali le crisi economiche e altre situazioni che possono turbare o rendere impossibile la pace il richiamo alla dignità umana per la diplomazia pontificia conduce alla tematica della libertà di religione quale diritto articolato che dalle questioni connesse agli atti di culto giunge alla necessità di riconoscere ad ogni comunità religiosa la capacità di organizzarsi autonomamente in questo ambito le relazioni diplomatiche della santa sede con gli stati sono finalizzate a garantire la libertà seclesia mentre l'azione multilaterale tende anzitutto a collocare la dimensione religiosa negli sforzi per una pacifica coesistenza tra i popoli e tra gli stati se esattamente 40 anni or sono la santa sede operò perché nell'atto finale di Helsinki il diritto della libertà religiosa fosse considerato uno dei dieci principi cardine di rinnovate e pacifiche relazioni internazionali in questo momento è obiettivo della sua azione diplomatica il superamento di un uso strumentale della religione giungendo persino a considerarla motivo di giustificazione per ogni genere di odio persecuzione e violenza ma oggi come nel 1975 un elemento rimane costante gli interventi della santa sede hanno a cuore la condizione di tutti i credenti un impegno che diventa una sfida nel momento in cui è ben documentato che i cristiani sono tra i più discriminati e continuano a esistere leggi decisioni e comportamenti intolleranti nei confronti della chiesa cattolica e delle altre comunità cristiane questa sfida parte necessariamente dal considerare preeminente il dialogo come mostra ad esempio il sostegno all'idea di strutturare il dialogo tra le religioni in base agli istituti e alle norme del diritto internazionale e che dal 31 ottobre 2012 vede la santa sede partecipare come osservatore e fondatore al centro internazionale per il dialogo interreligioso e interculturale organizzazione intergovernativa con sede a Vienna le condizioni di pace poi si costruiscono affrontando le questioni dello sviluppo mondiale e della cooperazione internazionale iniziando dall'orientare programmi e piani di azione verso le legittime aspirazioni di quanti sono costretti a vivere la povertà e il sottosviluppo un'indicazione di metodo e un obiettivo da raggiungere che Papa Francesco riprende con toni espliciti e cito individualismo egocentrismo e consumismo materialistico indeboliscono i legami sociali alimentando quella mentalità dello scarto che induce al disprezzo e all'abbandono dei più deboli di coloro che vengono considerati inutili così la convivenza umana diventa sempre più simile a un mero doubt des pragmatico ed egoista questo per la diplomazia della Santa Sede significa concorrere nel contesto del sistema delle Nazioni Unite all'elaborazione della cosiddetta agenda di sviluppo post 2015 perché siano riconosciute le aspettative di persona e popoli di veder rispettare la propria dignità e le azioni prospettate arrivino effettivamente a incidere sulle causi strutturali della povertà e della fame a conseguire ulteriori risultati sostanziali a favore della preservazione dell'ambiente a garantire un lavoro decente per tutti e a dare una protezione adeguata alla famiglia elemento essenziale di qualsiasi sviluppo economico e sociale sostenibile si tratta in particolare di sfidare tutte le forme di ingiustizia opponendosi all'economia dell'esclusione alla cultura dello scarto e alla cultura della morte sono espressioni di Papa Francesco nel discorso ai membri del Consiglio dei Capi Esecutivi per il coordinamento delle Nazioni Unite nel maggio 2014 ineguale distribuzione degli alimenti mancato accesso ai mercati ingiuste regole imposte al commercio internazionale mancata coscienza ecologica e danni all'ambiente sono alcuni dei fattori che domandano un'effettiva solidarietà tra gli Stati se si vuole garantire un futuro di pace che i conflitti nascono ormai dagli spostamenti forzati di popolazione a causa dei cambiamenti climatici o dall'insicurezza alimentare è un dato reale con cui la diplomazia quotidianamente si confronta ma solo un'azione coerente sorretta da altrettante norme dal trasferimento di tecnologie e di risorse può avere un'influenza decisiva facendo della pace il primo tra i nuovi obiettivi di sviluppo in una università non si può infine tralasciare l'interesse dell'azione diplomatica della Santa Sede per l'educazione che sul piano internazionale si presenta nelle sue diverse fasi e componenti alfabetizzazione istruzione formazione di base permanente specializzazione ricerca cultura riconoscimento di percorsi di studio e di titoli accademici si tratta di un ambito nel quale convergono programmi e normative elaborati da istituzioni intergovernative come il caso dell'UNESCO e del Consiglio d'Europa legati a traguardi quali l'accesso all'istruzione la non discriminazione la cultura di pace la tutela delle lingue e delle culture minorietarie fino alla più recente indicazione circa la multiculturalità e l'universalità del patrimonio culturale per la Santa Sede questo significa proporre un modello educativo rispondente ai tempi e ai processi in atto riconoscendo che per le persone e i popoli la pace è parte essenziale di quel diritto inalienabile ad una educazione che risponda alla loro vocazione propria e sia conforme al loro temperamento alla differenza di sesso alla cultura e alle tradizioni del loro paese ed insieme aperta ad una fraterna convivenza con gli altri popoli al fine di garantire la vera unità e la vera pace sulla terra gravissimum educazionis numero uno guardando l'attività della diplomazia pontificia nello specifico della vita internazionale quelli delineati restano solo alcuni dei possibili punti di un'agenda che riporta le tante situazioni concorrenti a determinare condizioni di pace condizioni che per i loro contenuti richiedono un impegno sempre più specializzato che però non si confonde con quella sterile pragmaticità che spesso anima l'agire dei diversi attori della comunità internazionale ad evitarla sono la natura ecclesiale e la missione a servizio della famiglia umana con notazioni proprie della diplomazia della Santa Sede nel suo incontro con i rappresentanti pontifici Papa Francesco ha offerto in proposito un'indicazione di metodo non siete intermediari diceva piuttosto siete mediatori che con la mediazione fate la comunione e parimenti anche un monito fate fare sempre con professionalità le cose perché la Chiesa vi vuole così e quando un rappresentante pontificio non fa le cose con professionalità perde anche l'autorità vi ringrazio per l'opportunità di condividere queste riflessioni e per la vostra pazienza nell'ascoltarle anche che restano solo un modo di mostrare la strada che ognuno nelle differente competenze e responsabilità può percorrere per attuare ogni sforzo in grado di edificare la pace dono di Dio e frutto del lavoro delle sue creature grazie grazie su eminenza nel nome di tutti i presenti vorrei ringraziarla per questa presentazione tan ricca veramente una presentazione piena è molto da riflettere ancora dopo questa seduta che abbiamo qui oggi insieme lei ci ha parlato del ruolo della diplomazia papale pontificia nel mondo che la santa sede non cerca semplicemente una sicurezza generica nel mondo però porta avanti un'idea della pace che è proprio un frutto dei giusti rapporti in modo particolare con un'attenzione per i più vulnerabili nel mondo lei ci ha parlato anche di uno sviluppo lo sviluppo del ad o da ius ad bellum a ius in bellum a ius contra bellum e finalmente a ius post bellum e che il motivo qui è di eliminare qualsiasi motivo per la guerra questo mi ha fatto pensare di Paolo VI se volete la pace lavorate per la giustizia lei ha parlato anche dei dei lavori in nascosto dei nunzi pastolici dei papali che lei conosce veramente da dentro che tanto lavoro che fate voi però lavoro non visto lavoro fatto in nascosto in secreto come il Signore ci comanda di anche pregare davanti al Padre nostro e lei ci ha dato un elenco infatti del servizio papale nel mondo diplomatico nella storia finendo in modo particolare con i rapporti tra gli Stati Uniti e Cuba e questo aiuto che Papa Francesco ha dato lì io sono posso dire personalmente convolto in questo passo avanti essendo cittadino degli Stati Uniti però anche delegato della nostra facoltà di teologia al seminario della Havana quindi io vado ogni anno già da 2006 alla Havana sono stato lì in questo febbraio allora goddo veramente di questi rapporti nuovi con grande speranza che questo facilita anche i prossimi viaggi che devo fare come delegato della nostra facoltà lei ha parlato anche di altri ambiti della diplomazia di far maturare una cultura della pace e anche della libertà della religione libertas ecclesia però vorrei concludere dove lei aveva cominciato con un'observazione di Papa Francesco che parla della pace come dono di Dio però anche il frutto delle relazioni umane che si parla della nostra responsabilità e questo mi ha fatto pensare subito di Maria Regina Pacis perché Maria piena di grazia allora il dono di Dio la sua concezione immaculata però Maria piena di grazia è la persona più libera che esiste la persona umana e coopera completamente nella libertà con la grazia ricevuta e così Maria può essere anche per noi un modello della diplomazia papale come Regina Pacis dono di Dio tutta la grazia piena di grazia però anche con la responsabilità di collaborare e cooperare con il Padre il Figlio lo Spirito Santo per la pace nel mondo Maria dà luce al il Principe della pace fino oggi in noi grazie e benvenza abbiamo adesso il momento per le domande se ci sono delle domande per sua eminenza ecco padre forse io posso ripetere le domande lei ha detto che quando altri non hanno lo stesso concetto di Pax e giustizia come la chiesa come possiamo andare avanti questa è la domanda bene so cosa suggerisce lei padre a questo riguardo sarebbe interessante oltre che oltre che oltre che oltre che le domande offrire anche qualche pista di soluzione dei problemi perché anche noi ci troviamo confrontati da tante domande no mentre le risposte sono sempre meno rispetto ecco a questi interrogativi che si affacciano soprattutto di fronte ad un mondo che diventa sempre più sempre più complesso ma evidentemente è così la realtà cioè la pensiamo diversamente ecco ci sono tante persone tante istituzioni e tanti stati che è stato un termine un po' generico ma che non pensano come la Chiesa anche se mi pare che c'è una convergenza e c'è stato anche uno sviluppo e una crescita nella coscienza della pace no oggi si parla molto spesso parlano tutti di pace ecco che poi di fatto la si cerchi e la si cerchi con quelle modalità che permettono l'instaurazione di una vera pace è altro discorso però il discorso la coscienza e direi che questo è stato anche un come dire un risultato della presenza e dell'azione della Chiesa e tante volte guardiamo anche nel passato su tanti temi ecco su cui la Chiesa aveva una posizione diversa che però attraverso questa azione di soft power mi pare si dica così no? di soft power ecco attraverso appunto il suo insegnamento la sua testimonianza la Chiesa è riuscita un po' alla volta a far entrare anche nella comunità internazionale per cui guardando alla storia io non sarei diciamo pessimista io non sarei pessimista c'è la possibilità lentamente anche con naturalmente con dei ritorni con dei regressi eccetera però c'è la possibilità che queste idee soprattutto l'idea della pace ecco come un bene prezioso insostituibile quello che dicevano i papi che con la pace nulla è perduto ma con la guerra tutto è perduto ecco possa farsi sempre più strada nella comunità internazionale ed ovviamente ovviamente questo è anche il lavoro che fa la Santa Sede all'interno per esempio degli organismi internazionali all'interno anche degli singoli stati anche la diplomazia bilaterale lavora lavora su questo punto io non so se è opportuno citare se stessi io credo di no ma per esempio ecco ho avuto una piccola esperienza che però è stata per me estremamente istruttiva proprio anche nella realtà del Venezuela padre Arturo è qui e lui sa ecco che cosa che cosa è successo che cosa sta succedendo va bene magari senza 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 tanto clamore no ecco è fuori dai riflettori il più possibile perché a volte ecco questo disturba più che aiutare ma dire una parola invitare esortare eccetera far riflettere questo può davvero aiutare a far progredire certe idee e certe concezioni che che sono necessarie per la vita dell'umanità e per la pace nel mondo quindi io direi che si deve fare così si deve continuare sulla strada che abbiamo che abbiamo percorso in tutti questi in tutti questi secoli ecco anzi aumentare sempre di più per questo che è importante anche come dicevo nella relazione essere sempre più preparati e sempre più professionali no per conoscere dall'interno queste realtà ecco e poterle veramente aiutare a evolvere a progredire a crescere attorno a quei valori fondamentali che sono la base della pace Eminenza non crede che in questo momento in cui sempre più ci sono provocazioni che spingono verso un conflitto anche di religione uno scontro tra una parte cristiana e una parte islamica soprattutto il dramma di questi ultimissimi tempi del terrorismo fondamentalista non crede che sarebbe molto utile in questo in questo tempo che la chiesa rafforzi un sentimento di amicizia di dialogo con i musulmani rafforzi il sentimento della comune fede nel Dio unico si faccia promotrice appunto contro la tentazione invece dell'inimicizia di un maggior e forte abbraccio anche tra le religioni nel rafforzamento del dialogo interreligioso seguendo le prescrizioni della nostra etate su questo dialogo e sul rafforzamento di questa mutua comprensione amicizia e mutuo lavoro per la pace lei ha ragione condivido il suo punto di vista non so se questo significa una critica che non lo stiamo facendo sufficientemente no non è questo però evidentemente la strada è quella la strada è quella noi siamo mi pare che il Papa Francesco è perfettamente convinto e sono queste anche le indicazioni che lui continuamente ci dà e che ci dimostra col suo stesso esempio quindi il superamento degli attuali conflitti e il superamento di una possibile clash of civilization come si usava a chiamarlo e si usa a chiamarlo ecco a mio parere passa solamente attraverso ecco e con con fede e con speranza in questo senso c'è bisogno perché a volte i risultati sono piuttosto scarsi ecco quasi quasi indurrebbero a pensare di adottare altri sistemi ecco c'è un po' questo pericolo oggi visto che abbiamo dialogato in questi anni abbiamo cercato e allora direi per usare uno slogan proprio di fronte a questa a questa situazione oggi c'è bisogno di più dialogo non di meno dialogo ecco e quindi io sono io sono perfettamente perfettamente d'accordo con lei che dobbiamo continuare a percorrere questa strada che darà i suoi frutti ecco che darà i suoi frutti perché fin dei conti noi cristiani non so se questa è una categoria politica io la credo credo di sì che è una categoria politica l'amore e non soltanto l'amore fra le persone ma anche l'amore fra gli stati e le organizzazioni internazionali ecco noi crediamo che l'unica l'unica forza che alla fine ecco prevarrà l'amore perché l'amore è Dio e Dio è amore allora io credo davvero che dobbiamo avere questa fiducia dobbiamo avere questa fiducia che gli sforzi che si stanno che si stanno facendo ecco troveranno a suo tempo anche il loro risultato e il loro frutto quindi continuare con determinazione su questa strada nonostante tutte le difficoltà e anche tutti gli insuccessi che possiamo sperimentare sì in questo stesso filone ottimista sul futuro dell'umanità eminenza vorrei sottoporre la considerazione che la Chiesa è tornata al passo con i tempi nella misura in cui ci sono delle condizionamenti nel mondo globalizzato delle ragioni che impongono alla comunità degli stati di tenere il passo con questa evoluzione un mondo in cui le comunicazioni sono immediate mondiali eccetera gli egoismi gli interessi nazionali finiscono con essere necessariamente subordinati a questi condizionamenti esterni i rapporti intergovernativi i negoziati a tu per tu non sono sufficienti lo sappiamo e neanche le guerre risolvono più nulla quindi alla misura in cui la Chiesa rappresenta l'ecologia umana la Chiesa si ritrova senza forse essersene accorta al passo con i tempi e quindi le ragioni della Chiesa sono diventate le ragioni dell'umanità o meglio le ragioni dell'umanità sono tornate ad essere quelle che erano e che sono a fondamento dei rapporti internazionali grazie ambasciatore sono felice che la cosa venga da lei che ha una grande esperienza proprio anche a livello internazionale nel servizio diplomatico dell'Italia e che quindi davvero la Chiesa oggi sia tornata ad essere anche un attore un protagonista anche a livello internazionale e che faccia parte della soluzione dei problemi di oggi ecco questo è lo spirito che ci anima grazie quindi per la sua testimonianza buongiorno 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 eminenza nella sua lezione lei ha citato tanti papi opportunamente no qual è la mia domanda è molto semplice qual è il ruolo qual è la importanza e quanto decisiva è l'azione dei papi nell'attività diplomatica della Santa Sede perché ci sono tanti casi specialmente adesso con Papa Francesco che sono stati notiziati come Papa come una decisione personale sua di di attuare verso la pace grazie ma noi diciamo che il Papa è il primo diplomatico della Santa Sede nel senso che effettivamente tutto diciamo tutto usiamo la parola l'apparato della diplomazia pontificia a servizio delle indicazioni che vengono che vengono dal Papa ecco quindi è vero quello che diceva lei cioè che Papa Francesco anche un protagonismo molto accentuato per cui molte delle iniziative ecco che poi diciamo la segreteria di Stato e la diplomazia pontificia porta avanti nascono direttamente da lui e dai contatti personali che lui ha con diciamo capi di Stato con rappresentanti rappresentanti politici lui già all'inizio del suo del suo ministero non vi ricordate nel discorso che fece ai diplomatici qui ci sono i diplomatici ma non so se lo ricordano forse non c'erano diede diede tre tre linee direttive all'azione della diplomazia della Santa Sede cioè costruire ponti lottare contro la povertà ecco edificare la pace bene noi ci stiamo muovendo su queste linee ovviamente poi le singole iniziative ecco non tutte si riconducono a lui però le linee di fondo sono quelle che lui ha indicato e credo che questo vale per ciascun Papa ecco vale per ciascun Papa anche se poi naturalmente ognuno dipendendo anche dal suo carattere dalle sue inclinazioni eccetera ecco è più o meno attivo in questo campo lascio più spazio alla segreteria di Stato ecco ma credo che di fondo ci sono sempre gli orientamenti che poi sono gli orientamenti di sempre ecco anche quello magari con accentuazioni diverse ecco diciamo prospettive diverse ma di fondo l'azione della Santa Sede è quella che ho cercato di una azione essenzialmente religiosa ecco che proprio per queste motivazioni religiose si dispiega anche a favorire la pacifica convivenza tra i popoli creando tutte quelle condizioni che permettono ad ognuno ecco di vivere degnamente secondo la sua la dignità personale e il suo essere figlio creatura e figlio di Dio aspetta il microfono Simon Perez ha proposto nell'ultima visita in Vaticano al Papa l'istituzione di un organismo internazionale che potesse raccogliere le principali confessioni religiose che potesse porsi come forza di interposizione nei conflitti armati internazionali facendo riferimento anche al fatto che sempre più oggi molte guerre vengono sono determinate insomma da motivi religiosi allora visto che la maggior parte delle confessioni sono d'accordo nello stigmatizzare questo come una mistificazione stessa della religione io volevo chiedere visto l'interesse del Papa quanto quella proposta ha portato anche a delle concretizzazioni quindi se la diplomazia vaticana si sta muovendo in tal senso e se lei pensa che questo possa avere in futuro dei frutti Peres ha anche proposto che il Papa potesse porsi a capo di questo organismo non più perché Arbitermundi per la sua autorità ma per l'autorità proprio personale che Papa Francesco riscuote oggi che gli viene riconosciuta da tutte le confessioni religiose se devo essere sincero devo essere sincero no non è stato dato finora nessun seguito concreto a quella a quella è rimasta lì come proposta ecco vedremo ancora di di studiare l'abbiamo ben presente ecco questa diciamo questo suggerimento che è stato dato sì non è facile neppure arrivare all'istituzione di un organismo di un organismo del genere io credo personalmente ecco e poi anche sì bisogna bisogna anche salvaguardare quello che è il ruolo delle religioni mi pare ecco hanno una loro specificità che a volte può essere non può essere riducibile semplicemente a tipo di un tipo di organizzazioni internazionali però mi pare che l'idea è proprio quella cioè che le religioni oggi sempre di più intervengano ecco nei modi che sono loro propri questo vorrei sottolinearlo nei modi che sono loro propri intervengano ecco contro contro i conflitti ecco e a favore a favore della pace quindi diciamo che la diplomazia vaticana si sforza di promuovere di favorire tutte quelle iniziative ecco che vengono da altri o che possono anche partire all'interno della stessa chiesa cattolica che vanno un po' in questo senso cioè nel senso di dare un ruolo sempre più attivo e visibile anche delle religioni nella diciamo nell'opera di pacificazione ecco e nella lotta contro i conflitti questo sulla questa cosa in concreto no non c'è per il momento non c'è non c'è nulla tempo per un'ultima domanda sì forse si può mettersi in piedi ecco ringrazio sua eminenza per la presentazione il mio italiano non è molto bene ma provo lei ha parlato di di pace mi ha fatto ricordare di dialogo tra cristiani e musulmani vengo da un paese dove si trovano tutti e due cristiani musulmani nel grande percento Tanzania vengo dalla Tanzania Africa è molto difficile fare un dialogo con loro perché noi siamo centralizzati ma loro no e vorrei sapere quanto effettiva il dialogo con loro diciamo musulmani del mondo non solo un paese perché anche loro sono in tutto il mondo diciamo grazie è vero lei tocca un punto reale cioè una delle difficoltà del dialogo con i musulmani non solo del dialogo ma anche per esempio del rapporto con gli stati ecco per esempio a livello di convenzioni di accordi eccetera è proprio questo della mancanza di una di un'autorità centralizzata noi siamo fortunati in questo senso pur con tutti ma siamo fortunati di avere qualcuno che ci rappresenta ecco e che diventa un interlocutore unico a nome di tutti di tutti di tutti i cattolici dell'intera comunità l'intera comunità cattolica e questo è un punto debole anche del effettivamente direi che nel dialogo ma qui dovrebbero parlare forse gli esperti di dialogo non io che il dialogo è più con singole comunità e con singole personalità ecco che con il mondo islamico come tale mentre con la Chiesa Cattolica possiamo dire che lì è la Chiesa Cattolica lì è rappresentata la Chiesa Cattolica con il mondo islamico invece il dialogo avviene più a livello di singole personalità e di singole comunità che sono più accessibili e più aperte aperte al dialogo la sfida è proprio quella di coinvolgere sempre più persone magari soprattutto quelle che non credono molto nel dialogo e che pensano di utilizzare altri sistemi per portare avanti ecco i loro obiettivi e i loro fini allora emirenza vorrei ringraziarla nuovamente per la sua presentazione per le sue risposte alle domande e per la sua disponibilità di stare qui con noi alla Pontificia Università Gregoriana in questo giorno e di es academicus sulla pace adesso non è che io vi invito però comunque annuncio l'invito di un brindisi nel atrio provveduto senza dubbio del padre lettore grazie a voi allora vorrei vorrei concludere soltanto con due piccoli punti il primo è una parola di madre Teresa madre Teresa diceva forse qualcuno lo sa la soluzione dei problemi del mondo comincia quando non si dice che cosa si può fare ma che cosa posso fare mi pare che andavano in questo senso anche le parole del rettore ecco di fronte a questo tema della pace credo che dobbiamo avete cercato di dare oggi anche una risposta ecco ma che ognuno si senta interpellato e io vorrei che anche se questa fosse l'unica conclusione di questa giornata già sarebbe molto che ognuno di noi si sentisse interpellato a lavorare per la pace e poi siccome io ero un buon studente alla Gregoriana e sono un buon studente anche adesso ho imparato qualche cosa da Papa Francesco il quale alla fine dice sempre pregate per me allora anche io vi chiedo pregate per me se avete un po' di tempo grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti